La Finlandia con Sampa Lajunen, il vincitore della medaglia d'oro nella prova individuale. Bellissimo, bellissimo il salto di Lajunen. E i finlandesi non so, se non sbagliano, non so come possono essere battuti. Hanno una condizione di insieme invidiabile. 96 metri e mezzo per Lajunen, dovrebbe essere il salto più lungo fino a questo momento. 96 e mezzo e 486,5 punti.